e oggi siamo qui tornati con un nuovissimo video in compagnia di miletano stavamo oggi siamo qui perché sarà un video molto molto particolare ci stanno 30 domande a cui dobbiamo rispondere fatte su questo sito qua bene niente ragazzi raggiungiamo almeno i 30 mila like oggi sabato 15 luglio alle ore 20 andate tutti quanti sui nostri profili instagram che vi lascio qui sotto in descrizione perché ragazzi c'è una foto che ti sei mai chiesto se allora prima domanda dove ci siamo conosciuti hangout belle conoscenze sembra stupido ma è così siamo conosciuti grazie a una persona che adesso ci sta molto tipo i brochure niente ragazzi siamo conosciuti hangout da un netto fa fosse stata diversa per forse sì dopo siamo andati al primo appuntamento ma ragazzi siamo beccati in farmacia mi servivano beccati in farmacia in farmacia di farmacia questa cosa è stata la prima impressione di me sta qua è scema no io ho detto questo è proprio ritardato ma adesso è ritardato che poi io all'inizio non si volevo tanto bene perché noi mi commentavo i video modiamo proprio io non so il motivo però è questo quando hai incontrato la mia famiglia? a Romics io adesso adesso ho qualche seno ossessione, ammazza adesso è proprio dovevo parlare di ossessioni oh padre io ho paura dei fantasmi da quanto tempo stiamo insieme? sei mesi vedo una tradizione si raga che litigamo ogni due per tre poi dopo sei te blocco un torno più te blocco un torno più cheat e poi me sblocca dopo due minuti qual è il vostro primo viaggio in macchina? ma sto sito che cazzo di domande fa? in metro primo viaggio in metro ragazzi questa è la prima cosa che hai notato di me i capelli si deve tagliare per naso tipo quello di qual è il mio ristorante preferito? sorgio fumo colori come carabaggio tu hai messo? con l'ospedale con l'ospedale con i pop corner ragazzi la mia water bottle è un forma devastante se qua gli argomenti ti chiamo di più tutto ogni cosa che faccio è sbagliato abbiamo dei favoriti oh che c***o conoscevo questo ragazzo si chiamava nico chi porta i pantaloni nella nostra relazione? io giro nudo a sto che cazzo vorrei dire? no era il senso tipo chi è che comanda? ah ma i pantaloni che vorrei dire? è il senso che poi al tempo qui c'era i pantaloni che comandava tra l'unca mi finia 17 anni il buttaglio se sto guardando la televisione che cosa sto guardando? eh mtv giordi show sto guardando invece io ne so su internet che sto guardando eh se te guarda eh c***o guardi te io le mie ossessioni c'è un cibo che non mi piace a me non mi piace ercedriolino c'è un cibo che non mi piace si riega i carciofi cosa ho dito da bere quando mangio fuori io avevo la paura che numero di scarpe? io 43 io ho 32 32 madonna qua è il mio sandwich preferito tu al mio il radere cioè cosa c'è sì che talento ho? fai nervosi le persone quando si litiga raga io penso che un giro lo spaccano online si perché quando litighiamo fai di tutto per farti incazzare si invece Alessio che talento ho? a ditte oh guarda è finita chiudo chiudo tutto poi dopo due minuti te sblocca che cosa mangiare tutti i giorni se potessi? nutella fai la vita quali sono i miei cereali preferiti? i coco pops i coco freni poi è la mia musica preferita potrebbe no aspetta la canzone ah la canzone ci sei mai chiesto se bella chi te l'ha ascoltato a ascoltare? il culo sono i miei occhi blu che sono i miei miei amici allora la canzone allora la canzone raga i miei miei amici sono Torchio ah Torchio si ciao Marco ciao Torchio questo è qualcosa che io faccio che tu vorresti che io non facessi si bloccando ogni due minuti no più che altro quando apri facebook che mi sfuta ma non è vero? io te lo sfuta vabbè non posso sfutarla no niente che po' da dove vengo? da Roma questo è risposto da un libro dei fiab ma che cazzo? regà non ha senso che torte dei pari vestiti per il mio compleanno? ah io sono a Nudel e ti dico qualcosa col cioccolato no io non mangio io non ho mangiato una vitamina vomito proprio però io ho qualche sport si ma che è un po' ma la vomito mi sono andata mi sono andata a due ore che cosa potrei fare per ore? tu bloccami tu pure potessi vivere ovunque dove andrei? pure io Harry Potter oh purtro ragazzi questo video termina qua se vi è piaciuto lasciate like se non vi è piaciuto segnate il profilo Tetano che trovi dei link in questa parte della descrizione lascia il canale Tetano regà mi raccomando segnate la domanda quindi ragazzi noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando sto cercando di lasciare un video su questa descrizione e niente ragazzi ciao ragazzi ciao 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 ragazzi ciao 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 ragazzi ciao ragazzi